Il libro è estremamente affascinante, come Giancarlo me l'ha inviato qualche tempo fa, è estremamente coinvolgente, ma dove si trova questo palazzo, questo castello? Chi sono i personaggi? Manca una relazione tra loro, una relazione con l'esterno, non c'è campo per il cellulare e quindi c'è anche una separazione dagli affetti, il giornalista vuole avvisare i familiari dove si trova lui e così altri hanno questa esigenza di mettersi in contatto con l'esterno, questa relazione che viene inizio a mancare. La relazione è un fatto estremamente importante, è nella relazione che noi conosciamo la nostra identità, la nostra identità sta nella relazione e oggi credo che sia questa prolungazione, le chiamerei così, di Giancarlo estremamente attuale.